Incredibile incidente ieri notte alle porte di Napoli. In seguito alla foratura di una ruota, un Apecar carico di cocomeri si è ribaltato, provocando pesanti conseguenze sul traffico. Secondo i primi accertamenti della statale, gli automobilisti di passaggio sono scesi dalle loro vetture e si sono lanciati in una furiosa caccia al Melone. Inutili le proteste del conducente ferito, totalmente inascoltate le sue richieste di aiuto. Mi porto tre rossi, io guido l'Apecar, l'Apecar della Piazzo. Mi alzo alle 4 del mattino, una volta dormo poi più me la prendo comoda. E poi vado al mercato e faccio il caricolico come L'altro ieri a Casoria vicino a Napoli Ho forato un pneumatico, perché il mondo stradale non è degli io. Si è ribaltato l'Apecar, e sono caduti tutti i cocomeri. Io ho avuto molta, molta pausa E tutte le auto che transitavano per Casoria Venivano sui miei cocomeri E nessuno mi soccorrito E qualcuno se ne approfittava Io gli davo aiuto Ho il sango, ma che cosa sono i bar Quucano Io le 100 è rossi Io porto tre rossa 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 Io guidavo la peccata Io adesso sono in ospedale con te cruci Se trovo l'autore del furto dei miei coproni Mi faccio restituire le bucce e i semi La gente crede di essere per bene Grazie a tutti